ciao buongiorno oggi specchiamo un un ordine di album 4 di frusce allora oggi fa più diverso no come sempre quasi fatto tutti i miei clienti e ora vi mostro cosa mi ha ordinato anche cosa io preparo mio ordine iniziamo subito iniziamo con questi piccoli questa mia cliente mi ha ordinato due balsami labbra hanno lampone e una mora eccolo perché è solo questo io metto di questi trasparenti bustini dove compro in cinesi e qui ha fatto un campioncino di nuova acqua perfumata questa acqua perfumata edizione limitata eccolo vedete solo questo e basta questo nuovo album e qui scritto quanto mando un mio ordine fatto questa offerta dove lei c'è interessa per vedere fatto sua scontrino è sempre metto un timbrino grazie poi cosa fa con questo con questo scusate perché dimenticato prende qualcosa fa così e questo primo è pronto lasciamo lasciamo qui vicino a me scusate poi secondo mia cliente anche lei mi ha ordinato due balsami labbra uno mora un altro mango io ho lasciato questa crema a serum vegetal perché lei sempre usano questa linea e visto ora se smesso questa linea io voglio darsi per usare lei perché lei piacciono sempre mio mi fa ordine di questa serie e per questo metto questo anche per lei e preparo album con questo dove po c'è interessante per ordinare poi un altro cliente mi ha ordinato solo una balsamo labbra di karité anche lei e preparato con questo album con quanto mando mi ha ordinato con questo album con quanto mando mi ordine con 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 i gadget facciamo così anche lei è pronta poi c'è un altro cliente dove mi ha ordinato perché in questo album nostri balsamo labbra scontati tantissimo da 1 e 95 costano uno e tutte tutte le mie clienti mi ha ordinato uno due tre o anche di più lei mi ordina uno karité e uno poco anche per lei immesso anti age global la un balsamo ricco botanico anche per lei preparo come tutte le mie clienti album eccolo andiamo avanti un'altra mia cliente per lei e preparo questo nuovo album più i data questo perché scusa facciamo così perché qui è il mio numero penso fa un altro ordine perché io quanto fa ordine passato giorno e allora ora vi fa vi apro scusate mi dimenticato parola va bene questa roba qui non solo un ordine se sono due ordine dove metto giorno dopo giorno perché 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 alcuni di miei clienti dimenticato qualcosa ma viso per favore mi posso mi prendi anche questo mi può prendi anche questo e allora fa un altro ordine e per questo perché lei lavoro un'agenzia dove c'è tante donne e mando anche questa album dove ora ancora in corso oppure volete sulla scuola 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 anche voi il nostro album mi scrivete qui sotto e io vi mando link cosa mi ha ordinato lei lei mi ha ordinato tutte le nostre balsamo labbra vaniglia carite cocco tutte questi tre sono trasparenti poi lampone mora e mango questi tre sono più colorati quindi lei mi ha ordinato tutti i nostri sei per lei cosa preparo e dato questa serie anti age global anti età e preparo un campioncino bagno doccia e questa volta qui di questa nuova afraganza dove è edizione scusate edizione limitata questa questo perfumo è da tante tante fiori a me mi piacciono tantissimo allora metto questo qui e andiamo avanti poi un'altra mia cliente questa cliente mi ha ordinato anche per lei preparo album e cosa mi ha ordinato lei lei mi ha ordinato un balsamo butanico ricco poi in album c'è un'offerta di purblet occhi delicati questo set ora costano 4,95 allora paghi uno e agenzia ti regala un'altra cosa mi ha ordinato ancora lei ancora lei mi ha ordinato di questi nostri ombretti waterproof eccolo questi anche loro rosa ora di offerta anch'io oggi sono truccata con questo questi ombretti ora scontati da 7,95 poi anche lei mi ha ordinato balsamo cocco lampone e mora a me nostri balsami labbra scusate mi piacciono tanto anche i miei fili sempre quanto io fa ordine per fare regalo di miei clienti tutti e due mi rubano qualcosa poi cosa preparo per lei per lei lei perché mi ha fatto ordine da 32 euro io gli preparo un regalo questa parfumino a sel azzur più questo trattamento quattro in uno di sebo veg tal scusate perché lei due volte mi ha ordinato sua crema per il viso e io voglio darsi anche provare questo poi anche per lei fa campioncino di questa nuova fragranza dove è limitata dico di nuovo poi questo è suo mettiamo qui dentro andiamo dopo avanti eccolo poi un'altra mia cliente anche per lei preparo questa nuova album più questo dove ora è in corso perché anche a lei lavoro con tante donne e può lasciare di là può lasciare dal suo lavoro o di qualcuno sua collega ci interessa mi può scrivere poi cosa lei mi ha ordinato lei mi ha ordinato due prodotti per viso allora questo è mus mus detergente eccolo questo è tre in uno allora vedete come liquido io penso che guardi i miei video in qui oppure di instagram scusate ho visto cosa questo è liquido e quando mettiamo in mano esce come schiuma per pulire il viso per struccarsi eccetera eccetera scusate non voglio passare tanto tempo in questo album secondo detergente ti viene scontato cinquanta per cento anche lei mi ha ordinato questo purment quattro in uno lei piacciono tanto sempre quanto questa è di offerta lei mi ha ordinato mi ha ordinato bagno doccia cocco uno fludio lisci per capelli lisci cosa mi ha ordinato ancora lei lei mi ha ordinato anche lei mi ha ordinato un balsamo labbra cocco più un gommage lim lim scusate un gommage per viso più una maschera purificante cosa io preparo per lei anche per lei fa regalo un parfumino parfum e fatto anche lei un campioncino di questa nuova fragranza lei mi fa spesa quarantaquattro euro va bene va bene mettiamo tutto in posto ecco anche questo un'altra mia cliente lei mi ha ordinato anche per lei fatto album per lei messo tanti campioncini e cosa mi ha ordinato lei lei mi ha ordinato due balsamo lavra di cocco più due mora anche mi ha ordinato questo trattamento per capelli anticaduta questo durano un mese e se può usare scusate due tre volti in anno allora in questo periodo dove inizia primavera nostri capelli cadono di più e questo è un stimolante per nostri capelli ora questo è scontato 14 e 95 suo pezzo normale è 29 e 95 va bene non metto per tutte le mie clienti questi campioncini dove faccio io perché lo sa che poi mi ordino dopo o chi non c'è interesse di questa roba dove esci anche questa mia cliente queste due insieme una mamma con sua figlia anche per loro preparo album qui dentro messo alcuni campioncini cosa mi ha ordinato loro loro mi ha ordinato parfum come uno evidence eccolo 50 email poi anche lei mi ha ordinato trattamento anti caduta lei mi fa ordine di questo di seconda volta io ho spiegato come funziona anche di prima volta lei quanto mi ha ordinato preso tutta la serie di anti caduta balsamo shampoo balsamo anche questo tratamento cosa mi ha ordinato un'altra il sua fila mi ha ordinato questi scusate ombretti waterproof questa è blu e questa è champagne più un rosetto grand rush elixir questo è numero 102 eccolo anche oggi sono con grand rush elixir numero 107 poi per loro cosa ho fatto regalare per fila ho fatto questo perfumo e per mamma a lei mi piacciono tanto i nostri acqua perfumati e per questo per lei preparo questo più un balsamo labbra questo è di anno scorso la sua fragranza è di mella questi sono l'oro mi fatto 76 euro e per questo sempre per loro metto regalini più a va bene allora un'altra mia cliente anche per lei preparo album cosa mi ha ordinato lei lei mi fa ordine del 43 euro e mi ha ordinato trattamento 4 in 1 sebo vegetale ecco questo è per quanto abbiamo brufoli oppure un'altra cosa in viso su 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 scusate devo usare questi poi mi ha ordinato una maschera purment pori liberi ancora mi ha ordinato una crema anti age global notte eccolo e tutte le nostre cremi di notte ora sono scontati 40 per cento allora cosa i preparo per lei perché lei mi fatto 43 euro le cetri fili e per questo i metto questo balsamo labbra e poi i metto un campioncino da 7 email crema giorno più il suo siero anti age global più i metto gel gel marina 3 in 1 e per capelli i metto balsamo botanico ricco allora va bene andiamo avanti per finire per finire vedete cosa ho fatto ordine per me e che regali mie che regali c'è mi ha mandato agenzia io ho sballato un codice da mio ordine questo primo e non mi è arrivati tutte le tutte le regali sballato sballato io allora qui ancora non preparo questo album perché perché mi mancano un pacco non mi è arrivato penso vieni oggi non vieni oggi vieni lunedì e per questo ancora ho preparato quasi nulla di lei lei mi ha ordinato un'acqua perfumata di mango anche questi acqua perfumati ora sono scontati 5,95 lei mi ha ordinato una baino doccia mango un'altra baino doccia l'otto più mi ho ordinato una crema mani anche l'oro sono scontati da 2,50 crema mani mango qui per questa ordine mi manca crema mani cocco lei mi ha ordinato una crema idra vegetal eccolo e io ora vi ho detto non ho fatto tutto per lei perché non lo so lei c'è due fili e penso anche metto un balsamo labbra per loro ecco alcuni cremi da questa nuova linea dove esci vabbè questa metto un'altra parte perché vi ho detto mi mancano un pacco non mi è arrivato penso vieni domani oggi pomeriggio poi un'altra un'altra mia cliente ovviamente mi fa ordine quasi 40 euro anche per lei preparato questo album nuovo anche per lei fa questo album dove ora è in corso perché lei sempre mi dice mi dai un'altra per favore io da una mia collega oppure da una mia amica qua io va bene cosa mi ha ordinato lei lei mi ha ordinato due da questa mousse perché vi ha detto di prima primo paghi prezzo normale e secondo ti ha scontato 50% poi lei mi ha ordinato una matita sopracili quattro brun eccolo più mi ha ordinato pur bluet occhi delicati il nostro nostri volentini ora cosa c'è dentro questo dove è uscito per Natale dentro cosa c'è dentro c'è un top coat con palettini più un illuminante e un stilo waterproof brun marrone scusate ecco eccolo cosa c'è dentro questa caramela a me mi piacciono tanto io lascio così perché non volo non volo come si chiamano dimenticato scusami per lei preparo questa nuova a fragranza per sentire e provare e gli da un aceto per capelli questo aceto per capelli è per brillantezza allora va bene mettiamo tutta questa roba qui dentro mettiamo anche questi album ho dimenticato scontrino mettiamo qui dentro poi un'altra cliente anche per lei ho ordinato album metto alcuni campioncini dentro e cosa mi ha ordinato lei lei mi ha ordinato due sciampi anti caduta poi per lei io preparo una bagno doccia per provarsi a fragranza e un campioncino di capelli balsamo botaniche ricci e qui dentro la sua fattura da un da un da alcuni metto campioncini dentro in album di un altro metto un'altra parte e allora questa mia cliente anche per lei ho ordinato album dentro c'è campioncini e cosa mi ha ordinato lei lei mi ha ordinato una bagno doccia lampone due due bano doccia pesca questa lei amo questa a fragranza poi un'altra bano doccia l'otto poi va bene questa mettiamo dentro perché non c'è posto qui i nostri volentini c'è questi anche se scontati questo costano ora due e novantacinque no tre e novantacinque e lei cosa ha fatto mi ha ordinato uno due tre quattro cinque ebani cinque ebani docci dimora questa fragranza dove è uscita per natale va bene ancora i nostri volentini e questo trattamento giorno per capelli nutrizione poi ancora mi è ordinato lei di nostri volentini questa gel per mani sua fruga e arancia fondente e lei mi ha ordinato questo per provarsi perché l'anno scorso quanto sono usciti lei mi ha ordinato due e non sono venuti e ora visto mi ha ordinato subito per favore anche per lei preparo questa bagno doccia per provarsi perché vedete lei amano i nostri bani più questo aceto brillantezza perché anche lei usano troppi troppi usano nostri sciampi balsami maschere tutto va bene mettiamo tutto anche album anche sua scontrina e metto qui poi un'altra mia cliente cosa mi ha ordinato lei mi fa 15 euro anche per lei c'è album dei nostri volentini c'è questa bagno doccia di frutta lei vuole provarsi perché lei sempre mi comprano o cocco o argan ora mi ha detto va bene cambiamo voglio provare un'altra cosa un'altra poi mi ho ordinato questo sapone liquido per mani anche questo ora è scontato da 2,50 poi cosa mi ho ordinato anche lei mi ho ordinato due balsamo labbra di cocco più un correttore un correttore un correttore beige queste sono di volentini 4,95 anche per lei ti preparo una bagno doccia da questa nuova per provarsi io penso i piatti mi fa piacere il nostro mi si vuole 100% vediamo il prossimo ordine mi fa o no va bene un altro pacco anche per lei per fatto album qui dentro c'è campioncini cosa mi ha ordinato lei lei mi ha ordinato due sciampi forfula 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 più più due sciampi rapparazione ecco anche per lei ho fatto campioncino bagno doccia perché anche lei sempre mi ordano mi fa ordinare i nostri bagno doccia poi metto questa crema per provarsi questo nuovo dove esce l'album 5 e un balsamo butanico qui dentro il suo scontrino metto tutto in posto un'altra il ultimo momento mi fa quest'ordine questa signora anche lei i preparo album e mi ho ordinato una bagno doccia lampone più un'altra bagno doccia mandorla eccolo cosa preparo per lei anche per lei i preparo bagno doccia per provarsi più metto questi cremi dove escono l'album 5 anche il suo scontrino è qui metto tutto dentro il suo secco secchetto scusate oggi video fa più lungo ma vedete che roba c'è poi un'altra mia cliente cosa mi ha ordinato lei mi ha ordinato due balsami labbra karité e uno mora poi mi ha ordinato un'altra balsamo per labbra rich cream rich cream più mi ha ordinato nostra mascara metamorfosa brun marone il nostro album ora c'è offerta quanto fa ordine da una mascara nera blu o marone può fa ordinare questi nostri palette oppure questa piccoli dove sono scontati ora da 9 90 qualcosa non mi ricordi bene più questi scusate oppure questi grande sono scontati da 12 e 95 allora cosa faccio io lei mi ha ordinato questo perché a me mi mancano questa palettina ho ordinato io perché io c'è in casa due tre perché mi ha regalato agenzia questa metto in pacco di lei e questo prendo per me va bene per lei mi metto un'acqua micelare scusate micelare pur camomile per strucante anche il fatto una campioncino acqua perfumata questa nuova e con i campioncini cremi questi nuove dove escono metto tutto qui dentro con sua fattura per lei noi preparo album perché lei sempre guarda o questo dove mando cellulare oppure va in nostro sito e guardi di là poi c'è un'altra cliente dove ancora non ho fatto niente per lei cosa mi ha ordinato lei lei mi ha ordinato una crema idra vegetal più questo carissimo cuffenetto dove dentro c'è una crema mani più uno gel per mani a fragranza e arancia fondente ora questa set è scontato da 3,95 l'ho fatto niente per lei perché lei vuole fare due bustini per regalo io prendo questa e penso metto così sì mi piace e ancora non lo so perché lei è più difficile per c'è troppi problemi con sua pelle e io sempre da nostra linea di camomile ora penso e da un'altra cosa per provarsi non lo so penso il regalo un balsamo labbra allora qui c'è un'altra signora dove mi mancano sui prodotti allora mi mancano crema struccante lenitiva questa è di camomile non c'è penso mi arrivano con un'altra roba dove non c'è qui lei mi ha ordinato pur bluetto questa struccante bifasico anche questa ora sta scontata da 4,95 più lei mi ha ordinato acqua perfumata vi ha detto è scontata da 5,95 anche lei mi ha ordinato un balsamo labbra lampone penso oggi mi arrivano un altro pacco perché qui mi mancano qualcosa di là mi mancano qualcosa più un ordine da un cliente mi manca tutto vabbè e questa è una crema giorno anti age global per un'altra cliente dove mi mancano anche per lei sui prodotti scusami allora cosa ho ordinato io io ho ordinato questi detergente per me e per mia fila grande poi ho ordinato questa sapone liquido mora a me questa a fragranza mi piace tanto tantissimo poi ho ordinato due ombretti allora uno metto in il mio posto dove fa trucco per questo no vedete aperto subito oggi sono truccata con questo blu più prune eccolo e anche i nostri volentini c'è se può fa ordinare da questi vecchi matitone jumbo questa blu io ho ordinato per me oppure non apro perché può darsi di cocono con regalo poi ho ordinato questi balsami labbra dove sono scontati i nostri volentini vi ha detto questa da due anni fa per natale io ho ordinato sette e visto qui mi ho lasciato solo quattro perché vedete io ho dato per regali dei miei clienti e dove vi ha detto ho ordinato questa palette grande per me perché a me mi mancano questa a me io volo perché mi piacciono colori eccolo vedete oggi oppure oppure questi giorni se tocco con questa e metto una storia su su instagram oppure su facebook poi cosa ho ordinato ancora ho ordinato questi set dove troviamo tra di noi tutta la serie di sebo vegetal eccolo poi un'altra set anche questa è da sebo vegetal acqua micelare quattro in uno un detergente scrub e questa quattro scusate scrub tre in uno e poi quattro in uno queste per buf scusate per brufoli dove escono diviso oppure abbiamo acne si può usare anche questo poi il nostro tra di noi c'è una buona offerta solo per noi consulenti di bellezza questi due scatoli con questi perfumini dove visto dove regalato i miei clienti ora sono scontati e io ho preso anche per tutte e due ordine io c'è quattro scatoli per ora perché a me mi piacciono per darsi sempre le gare di miei clienti scusami 8 8 16 per 2,95 dai se può fare regalo poi cosa mi è ordinato cosa mi è arrivato come regali mi è arrivato bagno doccia e acqua perfumata questi dove vi ha detto se può ordinare di album 5 vedete qui è quasi finito perché ha fatto campioncini qui no poi c'è un altro regalo per me questo è un ad 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 settembre una mia ragazza il mio team ecco quindi vieni come regalo come regalo mi vieni quattro fondotinta super matt eccolo questo è due duecento cinquanta poi questo è be cento cinquanta questo è due duecento settantacinque e poi questo è rosè duecento cinquanta più nostra spugnetta questa vi apro perché lascio per me eccolo vedete che è morbida ecco e poi cosa c'è un'altra un'altra non c'è c'è anche tanti campioncini dove sei in mio ordine io ho lasciato tutti i miei clienti poi se avete domande per il frusce o volete vi mando un link di nostro album iscrivete qui sotto e vi è piaciuto questo video mi fate un like e ci vediamo il prossimo ciao